Cominciano le prime riaperture dettate dall'ordinanza della regione Campania, infatti dal 27 aprile sarà possibile riaprire cartolerie e librerie, mentre per i vari locali come ristoranti, bar, pizzerie e pub sarà possibile effettuare le consegne a domicilio. Il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, ne ha parlato in diretta su Cilento Channel, spiegando la situazione e parlando anche di entusiasmo per questi principi di ripartenza. Da lunedì 27 saranno obbligatorie per ristoranti e bar, le consegne a domicilio. Non si potranno accogliere i clienti, ma solo richieste e sarà possibile dalle 7 alle 14 e dalle 16 alle 22. Non deve essere il cittadino che si muove, sottolinea Coppola, ma l'attività commerciale che porta prodotti dal cittadino. Invece le cartolerie e librerie potranno essere aperte solo dalle 8 alle 14. Qui è possibile l'acquisto presso il negozio, seguendo le norme, ma nei locali al di sotto di 20 metri quadrati il prodotto deve essere portato all'esterno di esso. In quelli fino a 40 metri quadri può entrare nell'esercizio una persona alla volta e così via. Invece, per quanto riguarda l'igiene degli esercizi commerciali, il sindaco ha dichiarato che la sanificazione va fatta inizialmente una tantum prima della riapertura e la ditta che la effettua deve rilasciare un certificato da esporre all'esterno del locale. Invece l'igienizzazione dell'esercizio dovrà essere giornaliera con i prodotti che già conosciamo, a base di alcol o cloro per esempio. Ci saranno anche controlli esigenti sugli operatori delle attività che manipolano un prodotto da consumare. In chiusura, Adamo Coppola ha parlato di un nuovo entusiasmo, soprattutto fra i ristoratori di Agropoli. Ho avuto già varie richieste da tanti proprietari di attività agropolesi. Non so se tutti i bar riapriranno in questa situazione, perché potrebbe non convenire, però c'è un nuovo entusiasmo fra i ristoratori che già stanno ricevendo richieste. Una piccola riapertura che dà entusiasmo alla nostra città.